siamo qui con franco corti studente ex studente da pochissimo di uno dell'università di padova che ha frequentato una delle edizioni del general course franco buongiorno grazie per essere qui la tua volevo parlare di contè della tua esperienza perché hai scelto di frequentare questo corso e perché consiglieresti di frequentarlo allora il corso sulla carta si presentava molto bene prevedeva dieci moduli che toccavano argomenti diversi l'ho scelto tra le mie attività facoltative insomma tra i miei crediti opzionali era un argomento che mi interessava quello di affrontare l'inclusione e soprattutto questo aspetto della multidisciplinarietà è stata tra le cose più attraenti e più interessanti e aspettative che si sono poi confermate dopo nel corso dell'attività e quindi ho scelto questo corso per sicuramente arricchire il mio percorso formativo io sono stato laureato da poco in economia magistrale e ho avuto modo di poter affrontare un argomento vedendo tutte le sue sfaccettature ovviamente su alcuni temi avevo meno conoscenze però la struttura era quella comunque di una lezione universitaria tenuta da docenti e referenti delle diverse tematiche che a seconda delle diverse aree di provenienza affrontavano l'argomento e mi ha permesso quindi di ampliare sicuramente molto la vista e anche conoscere un diverso modo di fare università, di studiare e di approcciare un argomento ecco adesso che ti stai guardando al mondo del lavoro che cosa senti che ti ha dato, che cosa ti ha lasciato questo corso, questa esperienza? Allora l'elemento forse più interessante è che studiando questo corso ti rendevi conto che c'erano tante cose che non tenevi in considerazione spesso quando si parlava di inclusione uno aveva magari dei pregiudizi o comunque dei concetti per cui ci sono cose più evidenti come gli ostacoli fisici le barriere architettoniche che tutti possono intuire e vedere facilmente però ci sono anche tante cose annesse ulteriori, aspetti psicologici anche proprio tecnici, ingegneristici che si possono e si devono tenere in considerazione per poter affrontare la vita con una cultura inclusiva e magari tanti aspetti che non pensavi fossero toccati dalla tematica dell'inclusione in realtà lo possono essere e quindi su questo mi ha sicuramente fatto rendere ancora più conto di quanto ci siano certi aspetti che la gente non considera Per coloro che si iscriveranno, il corso inizierà a febbraio una sorta di consiglio, quali senti siano i punti di forza, i valori di questo corso per cui tu consiglieresti loro di metterci le energie e l'impegno che poi richiede Allora, il consiglio è quello di contaminarsi nel senso di cercare, ci sono dei bei lavori di gruppo, delle belle attività e tutti i moduli comunque presentano delle possibilità di confronto tra gli studenti contaminarsi con studenti di altre aree nel senso che ovviamente a volte è comodo, vai col tuo compagno di corso lavorare insieme quella cosa, quell'elemento rimane però ho trovato molto molto bello studiare insieme a persone che venivano da tutt'altri percorsi per cui di fronte magari allo stesso elemento ognuno rispondeva in maniera diversa in base a ciò che aveva studiato quindi quello è stato un elemento sicuramente positivo e che consiglio a tutti di provare perché nel tuo percorso universitario solitamente affronti il tuo percorso accademico e salvo le attività appunto come queste extra piano del corso comunque dentro il tuo piano del corso come facoltative non hai modo di conoscere come altri studenti approcciano l'università come affrontano i vari temi a seconda delle proprie conoscenze quindi quello è stato sicuramente un elemento che consiglio ecco, un'occasione di affrontare un esame insieme a studenti di altri corsi Franco, grazie davvero per la tua esperienza grazie per essere stato con noi e auguriamo a tutti questi nuovi studenti del genere al corso un grande in bocca al lupo Saluti a tutti